Buongiorno a tutti, buon martedì 18 luglio, vediamo di non sbagliare date, giorni o quant'altro in questo caldo mercato così incredibile tra intrighi, colpi di scena e quant'altro, vediamo di capire che cosa succederà, soprattutto quali saranno le strategie dell'Inter, però partirei con un paio di cose, intanto vediamo un attimo, recupero il tutto, direi le parole di Di Marco sono quello da cui bisogna ripartire e anche una puntura amica male per il suo grande amico che se ne è dissolto, evaporato così. Il primo giorno è sempre speciale, il passaggio tra ciò che è stato e ciò che sarà, tra chi ci ha salutato dopo tanti anni insieme e chi è arrivato. L'unica cosa che resta sempre intatta è la maglia nera-azzurra, è il sentimento di chi chi la ama per davvero. Direi che ogni riferimento è puramente casuale ed è anche la migliore risposta che si possa dare a tutti quelli che continuano veramente con una negna insopportabile a lamentarsi di qualsiasi nome, di qualsiasi trattativa e questa è una vergogna, quest'altro è scarso, quest'altro mi fa schifo. Mamma mia una pesantezza, ma neanche, non sono neanche più intertristi, taffazzisti, ma ce ne hanno sempre una che non va bene, ma riconciliatevi con la vita prima di tutto. Adesso anche Morata è scarso, cioè va bene tutto, fa schifo Morata. Posso capire che non sia il vostro giocatore preferito, ma stiamo parlando di un giocatore che ha vinto tutto, che tutti vogliono la Juve, la Roma, l'Inter, che ha un tipo di gioco che secondo me si sposa benissimo con quelle che sono le caratteristiche del gioco di Simone Inzaghi e poi adesso comunque andiamo ad analizzare ogni tipo di trattativa che ci può essere in atto tutte le ultime notizie. Iscrivetevi, continuate a farlo al canale che abbiamo superato i 43K, ma non è ancora sufficiente, dobbiamo arrivare a superare i 50K. Dopo le parole di Di Marco, andrei invece a riprendere quelle di Paolo Bonolis, che magari invitiamo anche qui sul canale, dice Quadrado ottimo giocatore, ottimo colpo, potrà dare una grossa mano all'Inter con la sua qualità e questo è solo tutto quello che mi interessa. Alla Juventus aveva gli stimoli e la rabbia che i bianconeri gli suscitavano, è normale che difendendo i loro colori, provasse a provocare i nostri o a farmi andare fuori e via dicendo. Ora sono certo che gli stessi stimoli e la stessa rabbia li avrà per difendere i nostri di colori. La penso davvero così. Che mi importa di dove ha giocato? Sarebbe bello un Inter Juve 1-0 con gol di Quadrado, ma ripeto che non c'è niente da dover perdonare. Adesso comunque pensiero condivisibile o meno. rimaniamo anche solo alle parole di Di Marco, come sottolinea il Teccaldo più famoso di YouTube. L'unica cosa che resta è sempre e solo la maglia nera-azzurra, i giocatori vanno e vengono e poi si vedrà cosa si riuscirà a fare. Altro mercato da due per i taffazzisti tragici che non vedono altro che il bicchiere mezzo vuoto e tutto quello che accade è una vergogna. Società, dirigenza, chi più ne ha più ne metta. Adesso anche Inzaghi che preferirebbe Morata come soluzione alternativa all'attacco. Andiamo con ordine. Partiamo dalla contestazione a Quadrado, che è rientrata. Giustamente hanno detto, ma se avete tutta questa voglia di contestare, gli amici della Curva, perché non si è presentato nessuno e non erano neanche un centinaio sotto la sede ieri? Comunque, contestazione subito rientrata, questa trattativa che ormai è stata definita, non c'è nessuno spazio per tornare indietro, si è scelta questa soluzione a costo zero per una alternativa al titolare sull'esterno di destra, di esperienza, che può dare, magari soprattutto entrando a partita in corso, quella velocità, saltare l'uomo, caratteristiche che un po' mancano, anche se la carta d'identità dice 35, ma si dicevano le stesse cose per acerbi. Qui non vogliamo difendere o sostenere tesi di nessuno. Fate le vostre considerazioni con educazione, rispetto e qui potete discutere anche con tutti gli altri amici che scrivono le loro osservazioni, i loro pensieri. Noi siamo qui a riportarvi quello che succede e a raccontarvelo. Quindi, contestazione rientrata con la curva che potrà confrontarsi anche con Quadrado e potrà spiegare quelli che sono i valori dell'Inter, della sua maglia, di chi la indossa, che sono sempre stati nella storia nero-azzurra qualcosa di importante. Visite mediche, contratto di un anno, due milioni e mezzo, una casella riempita. Adesso si potranno investire su altri, diciamo, ruoli, i soldi dell'accessione di Onana che ha salutato tutti, molto commosso. Oggi si chiude il tutto una volta per tutte. Scusate la ripetizione, però abbiamo detto per una serie di quasi una settimana intera domani si chiude, domani si chiude, domani si chiude. Adesso è stato definito tutto, 52 più bonus e diventerà uno dei trasferimenti per il ruolo di portiere più onerosi della storia del calcio. Dopo Allison e Kepa, Onana raggiunge così il Manchester United del suo ex maestro Tenag con un anno importantissimo all'Inter in cui è cresciuto veramente molto permettendo all'Inter di realizzare una plusvalenza incredibile in una sola stagione preso a zero quando era addirittura squalificato quando c'erano tantissimi dubbi sul suo ritorno sul fatto che potesse essere un portiere congeniale al calcio italiano piano 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 si è conquistato il suo posto in zaghi la titolarità a dispetto anche di un Sami Randanovic che lo ha aiutato a inserirsi ha fatto scudo all'inizio della stagione quando le cose non funzionavano evitando anche che si potesse bruciare adesso comunque lascia però con una plusvalenza importantissima che ti permette di sistemare la squadra che ti permette di sistemare il bilancio come vi ho sempre detto non è per niente collegata non era all'acquisto di Lukaku però quella cifra che era stata preventivata per Lukaku verrà destinata adesso a 1-2 attaccanti prima però il portiere Sommer in arrivo dal Bayern Monaco anche qui tutti quelli che dicono non puoi sostituire un'ana con Sommer uno che è stato scelto dal Bayern Monaco non dal pizzichettone con tutto rispetto per il pizzichettone a gennaio scorso nonostante fosse in scadenza il Bayern ha messo giù 9 milioni per attaccare comunque la Champions per vincere la Bundesliga come poi è riuscito a fare per sostituire Manuel Neuer quindi direi che non c'è referenza più importante per tutti quelli che invece hanno una memoria corta ricordiamo come Paró nelle gare di qualificazione mondiali il rigore a Giorginio nella partita di andata lui portiere della Svizzera facendo fuori l'Italia quindi anche un par di rigori discreto con i piedi reattivo rapido grande professionista con valori come la famiglia davanti a ogni cosa esperto come chiede Simone Inzaghi pagamento della clausola 6 milioni ingaggio attuale di 5 all'Inter dovrebbe scendere di quasi un milione e col decreto crescita comunque ti costerà anche meno di quanto si pensasse non solo Sommer perché si vuol provare a comunque dare a Inzaghi una coppia di portieri senza però spendere troppo 10 più bonus è l'offerta per Trubin che verrà portata avanti vedremo se lo Shakhtar continuerà a chiedere troppo o invece magari rifletterà che rischia di perdere il portiere ucraino tra un anno a zero e quindi magari forse è meglio accettare l'offerta dell'Inter una coppia di portieri per una concorrenza interna che abbiamo visto Inzaghi considera importante per tenere alta la competitività anche sul ruolo di portiere la rivalità parte avanti Sommer poi vedremo se non sarà Trubin c'è Audero ci sono altre opzioni magari anche più low cost che possono darti più forza da spendere sugli altri ruoli però tutto poi dipenderà mercato fluido gioco ad incastri che al momento non si stanno diciamo intersecando nel modo migliore a Torino ci sono sempre più difficoltà per il trasferimento di Vlaovic al Paris Saint Germain non solo ambientali anche differenza di valutazioni Mbappé che non se ne vuole andare il PSG che vorrebbe prima di tutto Cain incastri che per quel signore lì con la L al momento non si stanno andando a mettere come vorrebbero tutti loro per il tradimento con la T maiuscola dell'estate vedremo anche qui cosa succederà nelle prossime ore c'è un'offerta dall'Arabia Saudita dell'Alilal che cresce e che potrebbe arrivare a cifre astronomiche mostruose si parla di 100 milioni vedremo se sarà questa la situazione intanto continuerà dal inizierà ad allenarsi da solo a Londra da separato in casa con il Chelsea aspettando novità dal mercato e vedremo se ci saranno le condizioni per un suo ritorno in Italia oppure no lasciate perdere tutte le narrazioni del metaverso le le sole che il villaggio da incubo di Gianni Ecanotto Ciccio Pallone e il mago dei biscotti vi raccontano ormai penso che abbiate capito siamo al 18 luglio 2023 andiamo adesso sull'attacco Morata sembra l'opzione preferita soprattutto da Simone Inzaghi Marotta lo conosce bene dal punto di vista umano e come calciatore ha vinto di tutto di più qualcuno storce il naso 15 milioni è l'offerta che l'Inter può mettere sul piatto il giocatore si parla di 5-6 milioni netti a stagione che comunque sempre meno di quanto prendeva Lukaku e quello che risparmi per il cartellino poi lo puoi investire su un altro attaccante se riesci a piazzare Correa Morata Morata lo conosciamo attaccante di riferimento anche della Spagna veloce tecnico non fa tanti gol ma la sua doppia cifra di solito la porta sempre a casa in più anche lavora per la squadra Sfornassist e vi ricordo sempre come faremo anche stasera nel nostro aperitivo alle ore 18.30 il vero sostituto di Lukaku noi ce l'abbiamo già è Turam è Turam Marcus Turam che l'anno scorso ha giocato da 9 al Gladbach è diventato una prima punta centrale che si può accoppiare benissimo con Lautaro Martinez con la sua velocità con la sua capacità di dare profondità può essere veramente come il primo Lukaku quello che andava nello spazio che nessuno riusciva a tenere creare assist per Lautaro e giocare in coppia con lui tanto che l'Inter ci ha messo una clausola da 95 milioni adesso si deve trovare un alter ego di Dzeko e Morata più giovane più tecnico no più tecnico no più veloce diciamola così può dare e fare il suo permettendoti comunque di avere poi una cifra da investire anche su un quarto attaccante lì lì si può veramente provare un colpo futuribile un colpo intrigante o anche andare su una fisicità per dire di Beto che secondo me è importante anche lui non è proprio un bomber da 20 e passa gol ne segna una decina però può crescere può migliorare fisicità importante però attenzione alla futuribilità e qui abbiamo Balogun l'attaccante che è più una seconda punta dell'Arsenal rientrato dal prestito a Rams 21 gol in Ligan richiesta però importante da una cinquantina di milioni così come Oilund che è un po' troppo di quanto l'Inter vorrebbe spendere ma che ti potrebbe consentire poi di comunque guadagnare negli anni in futuro previa esplosione del giocatore americano con passaporto inglese però attenzione anche a Hawaii Montpellier 2003 una velocità tecnica qualche dubbio ancora molto giovane però qualche biz però dal punto di vista comportamentale abbiamo studiato in live molto molto forte futuribile con una trentina di milioni te lo porti a casa dal Montpellier l'anno scorso mi sembra che abbia segnato 19 gol può crescere in maniera devastante e secondo me da prendere subito senza se senza ma un giovane come lui e uno più esperto come Morata insieme a Lautaro Turano non c'è problema e hai un pacchetto di attaccanti veramente forte completo differenziato ognuno con le sue caratteristiche con quella velocità che mancava con gente che salta all'uomo come Turam come UAI ma lo stesso anche Morata è veloce va nello spazio senza perdere in fisicità Morata è 1,90 Turam 1,92 una completezza di soluzioni sempre sempre che appunto si però riesca a piazzare Correa si parla dell'Al Shabab offerta dall'Arabia Saudita il giocatore ha fatto un'apertura vorrebbe però uno stipendio importante da almeno 10 milioni a stagione pensate alla richiesta quindi non è non è semplice l'Inter conta anche di di portare a casa qualcosa per il suo cartellino poi da reinvestire le sue parole di ieri non sembrano quelle ma è anche normale che sia così di un giocatore che se ne vuole andare vediamo la fluidità cosa ci porterà vediamo quello ci sono anche altri nomi Ocafor Nzolà qualcuno ha detto anche Zapata che mi sembra però in netta fase calante ha segnato veramente poco tanti problemi fisici nelle ultime due stagioni Nzolà invece forse un po' più interessante lo stesso Beto ne abbiamo parlato 1.94 potente anche se pasticcione un po' in zona gol ci sono tutte le possibilità per sostituire al meglio chi non ha voluto chi non ama la maglia nera azzurra come Danilo D'Ambrosio come Federico Di Marco vediamo vediamo un attimo che succede intanto facciamo un attimo un check per capire se sono state posticipate le visite di quadrado a domani o saranno oggi vediamo un attimo se c'è della novità un attimo che scrivo poi un altro un altro collegamento che vi voglio ricordare che quadrado ha lo stesso agente di Correa quindi anche per capire quello che accadrà potrebbe essere una un collegamento da non sottovalutare vediamo un po' quello che succede abbiamo detto dell'attacco una barra due punte portieri laterale destro da trovare oggi ci sarà ci sarà un incontro con i rappresentanti di Morata per vedere di anche superare la Roma scusate se c'è qualche pausa ma tutto è live anche se registrato cerchiamo di darvi di tutto e di più per sapere capire che cosa succederà quindi la Roma ha avuto un incontro ieri con gli agenti Juanma Lopez di Morata e sembra un'operazione troppo onerosa rispetto alla Roma e alle sue previsioni e ai suoi piani qualcuno mi chiede Di Bala clausola da 20 ingaggio da 6 comunque onerosa perché non prendere Morata e Di Bala non escludiamo nulla non escludiamo nulla in questa pazza estate caldissima e non dico folle ma anche qualcosa intanto mi hanno detto non credo dovrebbe arrivare in serata quindi vediamo un po' che succede per quanto riguarda le visite di Quadrado e varie novità ci rimane il ruolo di centrocampista che se risparmi come stai facendo puoi investire tanto su Samarzic ieri è venuta fuori anche la candidatura di Sarra in uscita in prestito dal Tottenham altro giocatore interessante c'è Gravenberg che il Bayern Monaco con cui si sta trattando Sommer ti potrebbe dare in prestito altra pista da seguire non non male per niente con un po' meno estro e più fisicità rispetto a Samarzic e poi rimane il difensore il braccetto di destra anche qui si aspettano magari occasioni last minute vediamo quello che può offrire anche il mercato dei top club degli elementi in uscita vediamo un po' adesso invece andiamo a leggere i vostri messaggi e ricordo comunque sempre a tutti che stiamo parlando di calcio di calciomercato tutti quelli che parlano di tragedie esistenziali fatevi una vita date il giusto peso alle cose siamo qui a passare una mezz'ora insieme parlando di trattative di mercato di tutto quello che sta succedendo le problematiche le conosciamo purtroppo molto bene abbiamo visto anche in questi ultimi tempi sono altre quindi per chi invece sta in zona Lago Maggiore e vi dico che venerdì sarò a Ispra 21 e 30 ospite di una Kermes che parla sul lago di calciomercato Inter con gli amici della camiceria e se siete in zona per il weekend o se abitate da quelle parti 21 e 30 in piazza vi aspetto e faremo magari anche un'edizione straordinaria live Galaxian incredibile sono rimasto scioccato quadrato all'Inter la folina del calciomercato Oilund è un sogno molto costoso con lo United davanti Danilo D'Ambrosio sempre con noi ti ringrazio per i saluti agli all fans Lampedusa ne faccio parte riguardo al mercato anch'io come la maggior parte degli interisti non sono contento per l'uomo che è stato nei nostri confronti però mi fido dei nostri dirigenti giudizi lascio a fine campionato Roberto direi che bisogna fare così come dice sempre il calciomercato è materia fluida non va più bene troppo tangibile da ora in poi propongo Castro Ilman il calciomercato è materia astratta Marco sempre complimenti spero nel colpaccio Oilund per essere a posto per 7-8 anni forza Inter mi ha stancato sentire che nel mondo del calcio tutto è possibile tutto deve essere accettato Ettore prima del calcio vengono gli uomini le loro qualità migliori poi le competenze tecniche però vi ha già risposto Paolo Bonolis no Oilund sarebbe perfetto per noi Tommaso non voglio star qui a commentare sull'acquisto di Quadrado al tradimento di Lukaku per questo vorrei proporre un paio di nomi che secondo me potrebbero essere interessanti Weygorst o Aller per la difesa un sogno Walker che va al Bayern Monaco concludo dicendo che là davanti a fianco di Lautaro ci vuole una punta che segni parecchio sono convinto che hai il nome del colpo in attacco top adesso tutto va in direzione Morata ma attenzione alle sorprese sempre dalla parte di Don Beppe ausilio da Cinisello disco Fedez sei in passato da avere sei passato da avere in panchina Bellanova avere Quadrado sarò pazzo io ma lo vedo come un upgrade comunque vedete opinioni diverse qui riportiamo cronaca notizie Arianna non ci vuole credere ai limiti dell'assurdo Lukaku va da dove vuole felice per Lautaro che sarà il nuovo capitano con l'inizio del ritiro non è andata da piano che ormai stanno tutti dentro non esce più nessuno oggi 18.30 al primo test della giornata con il Lugano a porte chiuse si dovrebbero poi recuperare gli highlights della partita non credo che li faccia in diretta la gara Inter TV anche a Cerbi Rudy dopo Lazio Milan era ai limiti dell'assurdo e poi manca poco che ci fa vincere la Coppa dei Campioni oggi ormai nel calcio soprattutto italiano bisogna essere macchiavellici Josh dice però di a Cerbi era un'interpretazione esterna ma quanto ne hanno detto soprattutto i miserabili degli scantinati i finti nonni con i filtri quindi anche su quello una narrazione che poi è stata smentita dal campo dalla professionalità e dall'impegno di Francesco a Cerbi che ha zittito tutte le male lingue strefezza al posto di Correa non è male dopo aver visto Conte tra l'altro scrive Interista 59 sulla nostra panchina non mi sorprendo ormai più nulla ricordiamo Conte calciatore allenatore sempre stato un anti Inter le sue feste il 5 maggio per dire no anche lì c'era una parte anche la curva si era messa di traverso in modo anche importante non ci sono soldi in Italia turiamoci il naso fidatevi della proprietà che l'anno scorso vi stava quasi portando la Champions League lo siete dimenticato già questo direi direi Lukaku è libero di parlare con altre squadre se l'Inter non gli dava garanzie è una storia strana l'Inter canta lealtà prende quadrato ma vedremo cosa succederà direi questo salutiamo l'amico Fernando dal Canada e tutti voi che ci seguite dall'estero e tutti i nostri abbonati che sostengono il nostro progetto di comunicazione non posso che dirvi grazie ma soprattutto per i numeri pazzeschi che ci regalate ogni giorno stiamo diventando sempre più punto di riferimento un appuntamento di cui non si può fare a meno ultimo messaggio festa della curva spettacolare la curva migliore d'Italia scrive Roby con i nostri sostenitori pubblici come te Marco tra i migliori d'Italia grande orgoglio grazie per queste belle parole giriamo anche agli amici della curva ti seguo sempre mi fido di ausilio e marotta quadrado ci sta Giorgio Iacovelli il calcio è strano stranissimo mai così Francesco Giaconelli un po' di rassegna stampa a chiudere in copertina le prese di posizione dei tifosi della Juve che non vogliono Lukaku dei tifosi dell'Inter che non vogliono quadrado ma è tutto rientrato e non si può far almeno per quanto riguarda quadrado niente tifosi rivolta Juve-Inter scoppia la polemica noi Lukaku non lo vogliamo ma che affari sono da anti-Inter a Giolli di Inzaghi quadrado a Milano fa infuriare i tifosi ricordo della trattativa saltata lo scambio Vucinic Guarin che qualcuno ci ha raccontato essere il capitano essere stato dell'Uruguay questo è quanto sanno nel metaverso di calcio l'Inter piomba su Alvaro e lo spagnolo dice sì la Roma adesso valuta sorpasso per Morata e frattesi emozione da primo giorno Nana oggi in Inghilterra e sprint per Sommer Inzaghi lo vuole in tournée andiamo al Corriere dello Sport il gioco di Lukaku diserta il ritiro del Chelsea aspetta la Juve giunto di 72 ore per portare il Belga da Allegri Lukaku in tre giorni e poi Big Rom gioca da solo ne parliamo poi stasera di un'altra di un'altra Grazie a tutti.